Cari amici, oggi leggeremo la prima denuncia dello scrittore Ornella Mariani Furni, infatti ieri in realtà abbiamo letto quella che era la seconda denuncia, cioè quella che ha presentato il 5 di luglio contro il Gip Vella, mentre invece oggi leggeremo la prima denuncia che ha presentato, è che è del 1 di luglio, ed è una denuncia nei confronti dei parlamentari che erano a bordo della Sea-Watch, quindi di Del Rio, Orfini, Magi e Fratoianni. Prima però voglio fare una premessa, oggi sono stato contattato da un avvocato cassazionista, cioè esperto di cassazione, nonché professore universitario, che ha visto i miei video ed ha rilevato degli aspetti che da un punto di vista della giurisprudenza sono molto fondanti. Di conseguenza, tra pochi giorni, intervistirò questo ed un altro avvocato, che sono due persone autorevoli nel loro campo, che ci spiegheranno in termini giuridici quelle che sono delle aberrazioni, degli errori contenuti nell'ordinanza del Gip di Agrigento. Spero che in seguito a questi chiarimenti si possa poi stilare un testo per una denuncia che sia, da un punto di vista della giurisprudenza, ineccepibile ed inattaccabile. Quindi in questo momento invito tutti alla calma e a non copiare e incollare la denuncia di Oriana Mariani Forni, perché, appunto, come ho detto, cercheremo di presentare una denuncia più solida da un punto di vista della giurisprudenza. Detto questo, spero comunque di riuscire a breve ad intervistare Ornella Mariani Forni e magari, perché no, rilanciare insieme a lei questa, per così dire, super denuncia. Ma adesso passiamo subito alla lettura della denuncia. La sottoscritta Mariani Forni Ornella col presente atto intende sottoporre al vaglio di codesta eccellentissima procura della Repubblica gravissimi atti criminosi che, verificatisi tra il giorno 29 ed il giorno 30 scorsi nelle acque italiane e circostanziati anche dai media internazionali, a meno di una sostanziale modifica del ordinamento giuridico, sfuggita anche al Parlamento, renderebbero la obbligatorietà dell'azione penale d'ufficio anche nei confronti di quanti, ed a qualsiasi titolo, abbiano sostenuto, fiancheggiato e condiviso le attività di tal Carola Arrachete, sottoposta a misure cautelari. Tanto premesso, certa che non sfuggano alla procura ad ita elementi costituenti notizia criminis ed ai quali non può opporsi né il silenzio né la sottovalutazione giudiziaria. Certa che in uno stato di diritto sia perseguibile qualsiasi cittadino colpevole di reati, indipendentemente dalla funzione che ricopra e che in nessun caso valga la omissione di atti dovuti. Certa che Codesta Procura a suo tempo ha contestato al ministro dell'Interno Polizia Tributaria il reato di sequestro di persona, benché non sfuggisse che il di lui operato fosse responsabilmente animato da ragion di Stato, dall'interesse nazionale, alla sicurezza del territorio e alla difesa dei confini. Certa che con grande discredito della dignità nazionale e del governo in carica, un gruppo di parlamentari e sodali, svilendo il senso ed il ruolo delle istituzioni in carica, abbiano solidarizzato con la racchete, ponendo in essere una condotta antistatuale, forse debordante anche nell'alto tradimento dei valori costituzionali. Certa che sono mancate nella condotta di costoro le pur millantate ragioni umanitarie, disattese peraltro per giorni e giorni dalla stessa racchete, la quale ha volontariamente sfidato e sprezzato l'autorità costituita fino a disattenderne gli ordini. La sottoscritta chiede a codesta procura se non si configurino nelle attività e nelle iniziative dei deputati Graziano del Rio, Matteo Orfini, Davide Faraone, Riccardo Magi, Nicola Fratogliani e di quanti altri con essi i reati di associazione finalizzata alla istigazione a delinquere, il favoreggiamento della immigrazione clandestina e la complicità nei delitti commessi dalla racchete. Se a carico dei suddetti non sia ravvisabile l'abuso di potere che ne aggrava le responsabilità giudiziarie e morali, ove, con ogni evidenza, essi si sono avvalsi del ruolo istituzionale nel condividere le attività criminali della racchete. Se a costoro sia imputabile il concorso in tutti i reati già ascritti alla racchete responsabile di un atto di guerra e o di pirateria marittima. E denuncia i deputati Graziano del Rio, Matteo Orfini, Davide Faraone, Nicola Fratogliani, Riccardo Magi e quanti altri con essi per tutte le ipotesi di reato che codesta procura vorrà valutare, ravvisando nella loro condotta anche l'esposizione al pericolo della vita dei membri della Guardia di Finanza e la violazione dell'ordine di una nave da guerra nazionale e delle norme sancite dal codice di navigazione internazionale, arrecando infine all'immagine dell'Italia, del suo establishment e del suo popolo un indecoroso danno ed un censurabile esempio di disobbedienza. Non sfuga infine alla procura dita che per il ruolo istituzionale dal quale dovrebbero decadere e per le circostanze di fatto la condotta da essi tenuta appare astrattamente idonea a determinare il rischio concreto della commissione di altri reati illesivi degli interessi e della credibilità nazionale. Con ogni riserva di richiesta di danni in ogni sede, quale cittadina e contribuente, la sottoscritta chiede di essere informata dell'esito della presente denuncia ai sensi dell'articolo 406 codice di procedura penale, nel caso in cui il pubblico ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede altri sì di essere informata nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 408 codice di procedura penale, il pubblico ministero presenti richiesta di archiviazione. Benevento, 1 luglio 2019.